Ciao a tutti e buona giornata! Quasi tutti amano ascoltare la musica, ma non tutti desiderano suonare uno strumento musicale. Ebbene, in realtà, tutti voi avete uno strumento musicale fra le mani sempre, ed è un semplicissimo cellulare. Voi col cellulare basta che scarichiate un piano o tastiera gratis. Io sono andato su Google e ho scritto semplicemente tastiera gratis per cellulare. Mi è venuto un programmino e adesso vi suono qualche canzone. Quindi se voi volete, dovremmo fare musica senza strumento musicale, ma scaricandovi una tastierina del cellulare, potrete farlo senza difficoltà. E a questo punto saremo davvero tutti in grado di fare musica insieme. Buona giornata! Edito ai vostri amici, tutti i vostri amici che dicono No, io non sono bravo con flauto, no, io non voglio spendere soldi per una tastiera, non voglio comprare una chitarra. Cellulare, ripeto, scarichi una tastierina gratis. Fina della storia, ok? Tutti possono fare musica, tutti. Un abbraccio! Cellulare, ripeto, scarichi una tastiera. Cellulare, ripeto, scarichi una tastiera. Grazie a tutti